Un maledetto telefono 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 Grazie a tutti. Oggi non è proprio giornata. Mi sono messo a cambiare l'olio, cioè ho tirato fuori l'olio, faccio per andare a prendere i filtri, avevo due filtri convinto che fossero per questo motore qui, invece no, erano per il piccolo, quindi non ne aveva. Sono dovuto andare a prenderli, quindi ho perso tempo, così. Adesso sto mettendo dentro l'olio e la cisterna è quasi finita. Ho dovuto mettere un spessore là dietro per riuscire a finirla. E spero mi basti, casomai lì c'è già quello nuovo. Speriamo di riuscire a finire questa cosa. Stia. Speriamo di riuscire a finire. Grazie a tutti. Sono andato a lavarmi le mani che ho finito il lavoro e nel frattempo ho cominciato a irrubiare. se non c'era quella lì riuscivo a parcheggiarmi più sotto. Ah che palle. Mi sono dimenticato di scrivere le ore sui filtri. Nel frattempo ha praticamente dilubiato. Non ho idea di quanto abbiamo fatto ma ne è venuto un po'. Devo anche andare a chiudere gli irrigatori che stasera partirebbero sul pezzo di là dove non abbiamo trinciato praticamente. Potremmo andare. Facciamo un giro fin là per non andare stasera. Andiamo con lui qui. Ok. 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 guarda che roba peccato che ho i stivali rotti sennò mi divertivo entrare lì lì si vede c'è il solco della rata che ho fatto stamattina è tutto allagato che figata guarda sta andando giù tutto di qua peccato che ho i stivali rotti non posso andare dentro lì tutta quest'acqua qui andava bene tre settimane fa adesso non serve a niente per l'amor di dio va sempre bene in generale uuuu guarda qua porca troia aspetta questo adesso si meglio tornare in su lì sono sprofondavo proprio come esserne le sabbie mobili che figata grazie 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 grazie